Grazie, siamo arrivati al momento dei saluti. Prima di finire volevamo ringraziare il comitato del Sardia che ci ha invitati, volevamo ringraziare Gustavo Zedda e il nostro agente, volevamo ringraziare soprattutto i tecnici che hanno montato tutto, che hanno permesso che lo spettacolo si potesse vedere e sentire, quindi il fonico del palco, dei luci, il fonico della sala e tutti i ragazzi che lavorano per lo staff. Alessandro Picciao alla batteria, Walter Spada al basso, Massimo Perra all'organetto, Diego Dejano al violino, Erico Frongia, voce, chitarra, io sono Daniele Puccu e tutti insieme ci chiamiamo Undur e vi salutiamo augurandomi un buon proseguimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.